E quindi, per questo primo video di discussione, in cui io parlerò di un argomento videoludico dicendo le mie abili opinioni, e voi potrete tranquillamente discutere nei commenti del suddetto argomento, e con di stucutele tranquillamente, ovviamente intendo che vi scannerete come due cani che vogliono lo stesso osso, mi piacerebbe parlare della next gen. Next gen, che è realmente una next gen? Perché da quel che ho visto, anche se siamo, ovviamente prendete quello che dico con le pinze, perché siamo alle primissime ore quasi della next gen, quindi i giochi devono ancora arrivare, non c'è ancora niente, ma da quel poco che ho visto di Rise, di Dead Rising 3, di Need for Speed Rivals, Ho storto un po' il naso, perché ho paura che questa generazione sarà la fotocopia della scorsa generazione, e di quella ancora prima, cioè che non ci sarà niente di veramente impressionante a livello tecnico, non dico di innovatività dei giochi, perché giochi innovativi secondo me non ne usciranno prima del 2466, ma dico di potenza di calcolo, perché non voglio più vedere gli stessi identici giochi che uscivano nel 1995, con una grafica però bella, perché la grafica è bella, i giochi sono sempre divertenti, ma è sempre la stessa cosa. Rise, per esempio, è tutti i giochi action che sono usciti su binari, che sono usciti nel 1995-96, però con la grafica del 2013, e a me questa cosa un po' fa storcere il naso, perché con la potenza di calcolo a cui siamo arrivati adesso, a me piacerebbe vedere che se tu attacchi un nemico allo scudo del nemico, questo scudo magari si crepa, si taglia, si rompe, ho visto che le animazioni di Rise sono molto belle, molto fluide, e per esempio lui prende il nemico alle spalle e gli conficca la spada in pancia, ma quando la toglie non rimane nessun segno, non è neanche sporco di sangue il soldato, sono stronzate, però non così tanto stronzate se voi pensate che siamo alla quarta, quinta, sesta generazione di videogiochi, e ancora, queste cose non ci sono. Perché non sfruttare la potenza di calcolo del nuove console, invece che aumentare il lens flare, il bloom dell'illuminazione, magari mettendo particolari in più? In Need for Speed Rivals, scusate, i danni sono ancora quelli di 5-10 anni fa di burnout, ma perché non mettere un sistema di danni migliore? Ma perché non mettere che quando sbatti con un muretto magari il muretto si rompe in base alla velocità in cui vai? So che queste cose magari, noi siamo ancora con la mente alla Playstation 3, Xbox 360 e molti di voi diranno, Eeeh, che cazzo stai dicendo, moh, arrivare a che in base alla velocità il muretto si rompe di meno o di più, eeeh, è vero. Però c'è da dire che noi stiamo andando anche nella nuova generazione di console, e non si può per altri 10 anni avere sempre gli stessi giochi con solo la grafica migliorata. Secondo me ci vuole un'innovazione totale, guarda caso, l'unico gioco veramente che sfrutta le potenzialità nuove è Knack, questo Knack, questo gioco per Playstation 4, Dove tu sei un robot che quando ti distruggono le tue, ogni singola tua parte rimane a terra. Quella, il gioco sembra un po' una puttanata, sarebbe da provare, non l'ho ancora provato, Però, il fatto che poi tutte quelle cose cadano e si ricompongano pezzo per pezzo, quella è una dimostrazione delle nuove potenzialità della console. Marginalissime, però lo è, è molto più next gen Knack di Rise secondo me, ma comunque, questa è la mia idea. Dicevo dei danni di Need for Speed, che porca miseria, ci sono danni migliori in Carmageddon 2, per l'amor di Dio, che ha quasi la mia età, ha un po'. E Carmageddon 2 era un gioco di auto, ma aveva dei danni incredibili, cioè la macchina si deformava, non era il classico cubo solido con attaccati pezzi di carrozzeria che si rompono, E no, era tutta deformabile. E' vero che poi ci sono altri motivi per cui non distruggono le auto nei giochi con le licenze vere e proprie, Perché appunto, chi vende le licenze dice, non mi distruggete la Ferrari per l'amor di Dio. Però, insomma, nei giochi di auto mi aspetterei di vedere questo e altro nella nuova generazione. Questo è il mio pensiero. Secondo me, la nuova generazione dovrebbe puntare più sulla potenza di calcolo delle console e non tanto sulla grafica nuova. Perché la grafica nuova, che la gente dice, la grafica non è importante. Ok, però deve essere ovviamente... Deve accompagnare la nuova generazione, la nuova grafica. Deve essere bella, ma deve essere anche interattiva la nuova grafica. Guarda Skyrim. Skyrim aveva una grafica che non era proprio il massimo, se la guardavi nel dettaglio, Ma era interattivo, potevi spostare qualsiasi oggetto, potevi prendere qualsiasi cosa e interagire con qualsiasi cosa. Perché io devo vedere ancora giochi su binari, non open world, dove non si può distruggere niente, Però è tutto luccicante. No, secondo voi non è meglio se le case di sviluppo spingessero molto di più su altre cose a livello tecnico e non solo sulla grafica? Perché a me piacerebbe rendere i giochi molto più interattivi che belli da vedere. Ma questa è una mia idea. Se volete discutere di questa cosa qui, mi piacerebbe leggere tutti i vostri commenti sotto il video. Io vi ringrazio per aver assistito a questo primissimo video di discussione, spero vi sia piaciuto. Magari in futuro ne farò altri. E niente, ovviamente siamo ancora agli albori della next gen. Speriamo che il futuro videoludico ci riservi delle sorprese. Grazie e alla prossima.